Noi ringraziamo Samsung perché appunto quando un privato si muove, porta qua tutte le sue persone, usa in senso buono un luogo pubblico e con il modo di fare, con il modo di usarlo, col proprio lavoro restituisce qualcosa alla collettività, è sempre un gesto bellissimo. Quindi Milano Sport mette a disposizione i luoghi, oggi il Saini, ma ricordo che Milano Sport ha 23 luoghi comunali, uno più veloce dell'altro e le aziende, in questo caso Samsung, fanno alcune attività per le loro persone che hanno come risultato positivo per tutti un miglioramento della collettività. In questo caso loro raccolgono spazzatura e fanno un'attività di questo tipo, ma l'associazione Retake che è dietro a questo progetto ha già collaborato con noi e davvero fanno delle azioni di volontariato civico, di ripristino della bellezza della cosa pubblica, per cui Milano Sport è davvero grata.